Musica Intesa ritrovata dopo la riunione di maggioranza, a questo punto il rimpasto di giunta può attendere. Musica Scoppia un silenziatore a TVN, incidente sfiorato questa mattina, CGL sul piede di guerra. Francesco Bellavista Caltagirone indagato per evasione fiscale, sequestrati beni per 145 milioni di euro, tra questi un aereo privato e un maxi yacht da 70 metri. Nuoto gli atleti della COSER pronti a partire per i campionati giovanili invernali di Riccione, appuntamento dal 22 al 27 marzo. Buonasera e bentrovati all'appuntamento con informazione delle venti di Provincia TV. I partiti di maggioranza trovano l'intesa e sono pronti a lavorare insieme per risolvere le questioni più importanti per la città. Da HCS alla situazione idrica, passando per il rimpasto della giunta che il sindaco ha annunciato avverrà dopo Pasqua, per mettersi in linea con quanto stabilito dal TAR in tema di quote rosa. Un'intesa che però, sottolineano i partiti, dovrà mettere da parte ogni tipo di personalismo. Sentiamo il servizio. Ci si sarebbe potuto aspettare di tutto dalla riunione di maggioranza di ieri sera. Tutto per colpa dei toni accesi sugli argomenti scottanti di questi mesi, dalla questione HCS all'adeguamento TIA passando per la conferenza dei servizi per il rinnovo dell'AIA di TVN. Ma a quanto pare i partiti di maggioranza hanno ritrovato l'intesa da tempo perduta o almeno fuscata dai personalismi troppe volte denunciati. E così anche il Partito Democratico, dopo la sintonia raggiunta, ha deciso di fare un passo indietro sulla richiesta al sindaco di rimpastare la giunta. A quanto pare, infatti, i voci di corridoio davano per certa la presa di posizione dei Democrat. Una presa di posizione scemata, visti gli esiti della riunione di ieri sera. I partiti di maggioranza, spiega il coordinatore del PD Clemente Longarini, si sono incontrati per cercare soluzioni comuni e condivise ai temi più rilevanti sul tappeto, quali il futuro di HCS delle partecipate, i disservizi dell'approvvigionamento idrico in vista della prossima estate, la questione ambientale e nel porto Tirreno Power. Punti di convergenza, disturbati da interferenze improprie, esternazioni estemporanee e prive di logica. Interferenze che il PD riduce a un'abitudine noiosa, un tic nervoso che diventa imbarazzante per i rappresentanti di quel partito della coalizione che la sera lavorano insieme per risolvere problemi e la mattina si svegliano, aprono il giornale e si trovano puntualmente smentiti e messi in ridicolo. Smentiti proprio dai personalismi che tornano a galla. E ora la maggioranza ha deciso insieme compatta, Luciani e Tidei non hanno però presenziato all'incontro, di riportare al centro della politica di Palazzo del Pincio quella dei partiti e non più dei singoli rappresentanti. E a prendere atto della sintonia finalmente ritrovata sono anche cinque consiglieri delle liste civiche, Lungarini, Di Gennaro, Iacomelli, Cacciapuoti e Santori, soddisfatti anche della volontà di istituire commissioni equamente composte fra i tre partiti di maggioranza per analizzare vari problemi sul tappeto. E fra questi anche quello inerente al rimpasto dell'Aggiunta, sicuri che il Sindaco saprà valorizzare l'apporto di chi ha già dimostrato nei fatti competenza e professionalità. Il Sindaco Tidei chiede scusa ai cittadini e agli elettori per l'adeguamento TIA 2011, tanto contestato e in una lettera aperta spiega il perché di questo balzello. Lo stato di cose che ha richiesto a tutti il contributo momentaneo e straordinario sulla TIA risale al 2011, in quell'anno Città Pulita, spiega, ha speso 12 milioni di euro, incassando solo 8 milioni. La legge sui servizi impone invece il pareggio tra le spese sostenute e la tariffa pagata. Ed è proprio il rispetto di questa legge che ha portato il Consiglio Comunale a porre rimedio alla situazione, deliberando a norma di legge un aumento della tariffa e concedendo contestualmente la possibilità di ratezzazione dell'importo, pagando in tre rate, pertanto l'80% dei cittadini si troverà a versare in media 30 euro al mese e non è poco. Anzi, in questi tempi di crisi, ammette il sindaco, per alcuni rappresenta un fardello pesante, motivo per cui ribadisce la volontà dell'amministrazione di restituire quanto prima le somme versate dai civita vecchiesi, facendo ciò che fino ad ora non è stato fatto, per seguire l'evasione che in passato è stata incoraggiata per coltivare le clientele, violando la legge e i diritti di chi ha sempre pagato. E se da una parte il primo cittadino chiede scusa a tutti i civita vecchiesi e soprattutto a quanti lo hanno sostenuto alle amministrative, dall'altro lato però ricorda quei 13.190 che hanno votato per chi era al governo nel 2011, che in democrazia la libertà, espressione di voto, chiama il cittadino alla corresponsabilità nelle scelte. Ciascuno di loro farebbe bene quindi a ripensare alle scelte che hanno determinato questo stato di cose. Alla fine la risposta dell'assessore Galletta, l'ultimatum del sindaco Tidei sulla vicenda Aia è arrivata, anche se non quella che forse il capo della giunta si sarebbe aspettato. Ho già fatto autocritica con la mia testa, non lo faccio a comando, perché sono una persona, non una marionetta. Se il sindaco ritiene di volermi sollevare dall'incarico, liberissimo. Questa è in sostanza la replica del numero uno dell'ambiente. Come sentiamo in questo servizio? Se il sindaco ritiene di volermi sollevare dall'incarico, da lui stesso conferito mi dandomi dell'incompetente, liberissimo. Non credo che tornare sui propri passi sia un segno di incompetenza, anzi penso che solo gli stolti non cambino mai idea. Non è arrivato il dietro fronte richiesto dal primo cittadino all'assessore Roberta Galletta, ma oggi l'esponente della giunta ha chiarito la propria posizione in una nuova lettera indirizzata al sindaco. Una lettera nella quale l'assessore all'ambiente ribadisce le sue perplessità sull'accordo raggiunto in conferenza dei servizi. Quando si è iniziato a discutere della vicenda relativa al rilascio dell'Aia la scorsa estate, afferma la Galletta, il sindaco e tutta la maggioranza, me compresa, paventava la chiusura della centrale sulle base di 36 criticità, la cui risoluzione dichiarava come necessaria per la tutela della salute dei cittadini. Criticità che in alcuni casi non sono state risolte dall'Aia. Sono ancora convinta, dice infatti ancora la Galletta, che siamo in tempo per trasformarle in prescrizioni. Solo così potremmo dimostrare senso di responsabilità e tutela per la salute dei nostri concittadini. E quanto alle scuse attese dal sindaco? Ho già fatto autocritica, conclude, con la mia testa. Non lo faccio a comando perché sono una persona e non sono una marionetta. Grave incidente questa mattina a TVN. Secondo quanto raccontato dal segretario CGL Cesare Cagliazza, sarebbe scoppiato un silenziatore posto su una valvola di sicurezza che nel ricadere a terra avrebbe potuto colpire qualche lavoratore, ma per fortuna non si sono registrate conseguenze tragiche. E nonostante il segretario CGL dato a Enel di aver convocato tempestivamente RSU e delegati dei lavoratori alla sicurezza di aree, Cagliazza intende condividere rapidamente con CISL e UIL la richiesta di convocazione dell'osservatorio confederale territoriale, istituito da tempo nella centrale di TVN per comprendere cosa sia accaduto e soprattutto per fare il punto sui temi della sicurezza. L'obiettivo condiviso con Enel dichiara Cagliazza di operare per infortuni zero, non può essere affidato al caso e alla fortuna, bensì va costruito proseguendo lungo quella linea di attenzione che ha caratterizzato gli accordi sindacali e tutte le iniziative in materia di salute e sicurezza espresse negli ultimi anni. La situazione carceraria e carceri cittadini in realtà e problematiche e misure cautelari è stato il tema del convegno tenutosi oggi presso il carcere di via Tarquigna organizzato da Avvocatura Indipendente per la Giustizia. Molte le soluzioni proposte dai relatori, sentiamone alcune in queste interviste. Mi è venuta in mente proprio in relazione a questo convegno l'istituzione, la convenzione che è stata fatta per i braccialetti elettronici che all'estero funzionano, in Italia non funzionano. Però si è rinnovata la convenzione per 100 milioni, 100 milioni che potrebbero essere spesi in altro modo per braccialetti che sono stati utilizzati, l'ho letto su internet, per 10 detenuti, 8-10 detenuti. Questa è una cosa assurda. Io ho fatto un'istanza chiedendo per un detenuto la misura alternativa al carcere utilizzando i braccialetti. Devo dire che è stata provocatoria e chiaramente la risposta è stata negativa. Questa persona è ancora in prigione. In attesa di giudizio, il che è grave, perché abbiamo un 40%, oltre un 40% di detenuti in attesa di giudizio. Mentre all'estero, sempre nella ricerca che ho fatto, c'è un 25% in attesa di giudizio. In questi casi mi ricordo il vecchio film di Alberto Sordi detenuto in attesa di giudizio e l'amaro che mi viene pensando, ripensando a questo film e che la situazione è tale e quale a quella di quel film, purtroppo. Devo dire che sono alcuni anni che si svolgono degli incontri sul carcere, sul problema del sovraffollamento e soprattutto anche sulle due realtà cittadine. Quindi questo è molto positivo, secondo me. Quali sono le realtà cittadine? La casa di reclusione, questa dove ci troviamo, che ospita detenuti definitivi, quindi che hanno avuto i tre gradi di giudizio e che scontano veramente la pena della reclusione. La casa circondariale di Civitavecchia, in cui invece le posizioni giuridiche dei detenuti sono diverse, quindi dove ci sono molti detenuti in attesa della prima sentenza di condanna o di assoluzione. Quindi i problemi di cui si sente parlare anche molto a livello nazionale si sentono forse più nel carcere circondariale che non su questo? Sì, devo dire che l'istituto che io dirigo non ha problemi di sovraffollamento e quindi rispettiamo la norma in tutte le sue parti e riusciamo anche ad attivare col detenuto una serie di attività e di coinvolgimenti per il futuro e per il reinserimento e per quindi creare delle occasioni per il momento in cui terminerà la condanna e riacquisterà la libertà. Mentre invece il circondariale ha naturalmente problemi di numeri, di proporzione tra gli spazi e i detenuti, di spese, di manutenzione della struttura e quindi questo porta naturalmente a una gestione più complessa. La Ficoncella si trova nelle più totale abbandono e degrado. A denunciare lo stato dell'impianto è la Sar Hotel che in una nota ricorda che fino a quando è stata nel possesso del sito ha garantito la certificazione delle acque commissionando analisi ed indagini, intervenendo anche sugli aspetti igienico-sanitari. Sul piano invece dell'efficienza sono stati introdotti a beneficio dell'utenza servizi innovativi della servizio cortesia come a Capatoi, Ciabatte ed Asciugamani, nonché interventi di miglioramento come il ripristino del piazzale antistante e delle strade limitrofe. Tutto ciò negli anni si conclude la nota della Sar Hotel e non era mai stato eseguito. Ancora disagio e degrado nel quartiere delle casermette, in via della Polveriera. I residenti sono infuriati con l'amministrazione che non risponde alle sue richieste d'aiuto da ormai troppi anni. Per questo siamo andati nel quartiere ad ascoltare la voce dei cittadini, ascoltiamo il servizio e l'intervista al rappresentante del comitato delle casermette, Franco Esperto. Seri problemi alle strade, fogne a cielo aperto dove escono topi come gatti, mancanza di marciapiedi, un solo cassonetto per l'immondizia da dividere con tre vie, più il quartiere di via della Polveriera, ingenti infiltrazioni d'acqua nelle case, mancata disinfestazione da circa un anno. Questo ed altro devono sopportare gli abitanti delle casermette in via della Polveriera, dietro l'italcementi. Infatti l'Ethernet, impiegato per la struttura del vecchio cementificio, è ancora lì. Da anni la questione occupa sempre un notevole spazio nella stampa locale, ma proprio in tutto questo tempo non si è ancora trovata una soluzione per i residenti, cittadini che chiedono di un uomo con rabbia di essere ascoltati da un'amministrazione latitante. Gli ex lavoratori di talcementi, oltre a dare la propria mano d'opera, hanno dato anche la salute per l'industria, come afferma il rappresentante del comitato casermette Franco Esperto. Allora, i problemi maggiori è soltanto una cosa, che noi abbiamo mandato una lettera al sindaco per poter fare qui un'assemblea nel rione, in quanto che tutta la giunta comunale, compreso Lugani, l'assessore alla casa, il dirigente delle case popolari, il presidente delle case popolari, stanno facendo accordi lì con gli tarcementi qui nella nostra zona. Noi qui non intendiamo lasciare niente se noi qui non veniamo interpellati. E io gli dico, come sta scritto sopra la lettera, qualsiasi costruzione che viene fatta in questa zona, noi occuperemo il fabbricato e andiamo a prendere le case nostre, perché sono 30 anni che non stiamo compantendo. Poi se parla dell'emergenza qui abitativa, io gli voglio dire a questi signori, ma siete venuti mai qui nelle case armette, che io non vi ho visto mai, a poter venire a vedere in che condizioni abitano, gli abitanti qui dalle case armette. Infatti qua abbiamo l'esempio qua di questo palo dell'energia elettrica, che sono intervenuti pure vizio. No, qui abbiamo di un palo dell'energia elettrica, che sta accadendo alla fine. Ancora qui non si sa di chi ha la responsabilità, degli tarcementi o del comune. A qui qualcuno bisogna che si prenda la responsabilità. E poi io voglio dire una cosa al signor sindaco, se dentro una settimana lui non viene qui e viene a fare un'assemblea, io faccio un'assemblea del rione, occupo il comune e lo sproprio da quella sedia, a lui, a Luciani e a tutte quell'arte che gli stanno vicino, perché è ora lì che la fate finita. Lei, signor Luciani, se lo ricordi lì, quando c'è stava lì di Sio, che è venuto giù e ha detto riguardo le case, che bisognava dargli il comune. Adesso tu che fine hai fatto? Sei sparito dalla circolazione. Ma che forse ti vergogna adesso a venire qui nella zona, a venire a dire le cose come stanno? Oppure gli interessi tutto lì da altre cose? Noi non siamo risoddisfatti di questo. Siete assenti nei problemi, gli dicevi da vecchio, abbiamo un rione che fa schifo. Questo è quello che io ti dico. Fra una settimana, poi lì ci sentiamo da capo. Punto. Questa mattina l'Aula Pucci, gremita di studenti, massime cariche cittadine e i ragazzi dell'Associazione Melograno erano tutti uniti per la decima edizione dell'iniziativa Tamburi per la Pace, promossa dall'Istituto Superiore Marconi di Civitavecchia insieme a EIP. Ascoltiamo il nostro servizio. Decima edizione dell'iniziativa Tamburi per la Pace promossa dall'Istituto Superiore Marconi di Civitavecchia insieme a EIP. Questa mattina l'Aula Pucci, gremita di studenti, i docenti, i massime cariche cittadine e i ragazzi dell'Associazione Melograno erano tutti uniti per parlare della pace. Il primo cittadino Pietro Di Dei ha sostenuto il concetto di un momento dove la pace è importante per sviluppare le capacità umane. L'avvocato Vincenzo Cacciaglia con la Fondazione Cari Civ è sempre presente e vicini a manifestazioni di istruzione e di crescita civile. Ma non solo. Alessandro Battilocchi ha spiegato il significato della pace fondamenta principale dell'Unione Europea. Don Leopoldo ha condiviso il suo pensiero come perdono e il presidente dell'EIP Anna Paola Tantucci, oltre che ricordare l'importanza dei tamburi per la pace e interpretare l'armonia e l'uguaglianza tra popoli ha anche ricordato il contributo di un euro per sostenere la ricostruzione della città della scienza perché la fratellanza ha dichiarato soprattutto in questi momenti è più forte della camorra e a sostenere questo impegno è anche la Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia la quale ha dichiarato il presidente Vincenzo Cacciaglia donerà per la città della scienza il doppio delle offerte a seconda di quello che scaturirà dalle donazioni degli studenti. Adesso ci fermiamo una piccola sosta poi il comprensorio grazie a tutti